Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video di Brawl Stars Esatto Oggi voglio provare un personaggio con che ho sbloccato la mutazione Che è Colt Cosa hanno altri? Anche Shelly, Brock, Pocho, Rosa E' un po' Quindi Però, boh Apriamo Monettine E' stato consigliato anche di magari utilizzare i soldi per potenziare i personaggi comprando dei gadget Che effettivamente non è una brutta idea Esatto, ci sta alla fine Però non so quali, raga Che muove qualsiasi tipo di... Allora Benito a più, per me, per me, per l'attacco successiva Cosa è il cento di... Oh, no Beh, dai Ci sta, non male Non male, ragazzi Vabbè Eh, niente Andiamo Oddio Basta, per inizia la stagione Top Eh, cosa possiamo fare? Ma sì, proviamo... Duelli 10 Ma sapete che vi dico? Dai, lo compro Compro un... Una calamita per brawler Sul nostro amico Beh Tanto Giusto per provare Così Just for fun Come si vuol dire E niente Andiamo Carina stamattina Mi piace Molto Halloweenesca Diciamo No, la verità no È solo la lava Lasciano un po' Ah, però non so cosa... Ok Non so cosa fare In realtà La mutazione di colto Sapete che Si mette qua Tipo Ma che feca... Oh Maledetto Infame Stava nel lato Aspettare Camperato Magonna Ragazzi Popolezzo Vabbè Aspetto io allora Cioè Guardate Che impane Noi ci mettiamo qua Belli camperati Madonna Però che palle Sto gioco così Ah M'hai visto? Dai Esci fuori Eccolo Ah Io ti sono toppato Vabbè Comunque Cioè Se tu camperi Aspetto Aspetto E vaffambrado Tanto farà lo stesso Anche ora Palese Mi aspettiamo No C'ho per lui Fred No no Tanto aspetto Piate questo Dagli Così impari Nabba del cavolo Sei proprio Un nabbo Bro Adesso Adesso ti faccio Morire con Frank Ti faccio morire Dalla Dalla nebbia Cioè dal fumo Sì Dalle nuvole Dal gas Tanto a me Che me frega Oddio Che poi non so Se arriva fino a qui Potrebbe arrivarci Però Noi proviamo A ucciderlo Così Per il meme Ahia Non ho accorto Ahia Ahia Ci arriva Che ragazzi È arrivato il brutto Cioè 15k Ok Questo è straforte Con Top Boom No No raga Che gioco di merlo Oh Boom Oh Come l'ho distrutto Come l'ho distrutto Easy Non so Non so Non qui Come ho fatto Vabbè Ah Casissimo Ok Per me va Più che bene Tanto Che ragazzi Non mi aspettavo Proprio Madonna Non mi aspettavo Veramente Oh no Per pochissimo No No Dai Ecco Non lo so C'ho C'ho A livello Basso Oppure Non sono forte Guarda come Gli faccio Come lo pull up Ora No Oddio Raga Ma Ma che è Devastante Sto personaggio Maledetto Guarda Come Sa Sa giocare Sto impane Sei un maledetto Madonna L'ho sciolto Raga Che cazzo Ecco io me l'aspettavo Onestamente Vabbè Ok Ti ho sciolto Bro No Ma ha fregato Basso Oddio Non c'ho vita Ok Top Dai vieni qua Oh Easy Fortissimo Sono troppo forte Sono stra Forte Raga Rai a fare i robot Ai 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 Brutto robot Vabbè Ah No Ho fatto una cosa Che non devo fare Vabbè Oh Che Che Muori Morita È morto davvero Per la nube Non ci credo Non ci credo Troppo Easy Dicevo Madonna Non mi aspettavo proprio Non mi aspettavo proprio Raga Troppo forte Sono troppo forte Vediamo contro chi siamo Oh Contro Edgar Magari Distruggiamo qua noi Guarda È sicuro da qualche parte qui Non so dove sia però Eccolo Eccolo Lo sapevo Ah Muori No 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 Vabbè Vabbè Purtroppo non sono per niente Forte con me Con Colt Cavolo Perché noi abbiamo distrutto Praticamente tutte le difese Là Che dove si può riparare Quindi A me non mi conviene Pusharlo Perché questo è straforte Con Edgar Quindi Mi chiamocela un po' safe Tanto è qua Esci fuori Ora esce fuori Uuuuh Uuuuh Abbiamo camperato E ce l'abbiamo fatta Raga Top Sono seppistora forti Lo sapevo Lo sapevo che Aspettavo fino all'ultimo Donna però Che Cioè guarda Questa mappa Non mi piace più Cioè non mi piace molto Perché Cioè la gente campera Invece di fightare Cioè manco vanno doriti A combattere La mappa Avevo fatto una mappa Non so nemmeno se l'ho portata in video Però era strabella Era dritta Non c'erano tutti sti bash Che sono Le Come si chiamano Le Ah Sto morendo Ah C'è spugli Adesso lo pull up Ecco Te l'ho detto Così impari a spammare Da lontano Madonna Tutti che giocano così sneaky 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 Mamma mia che fastidio Persone Orribili Posso? Posso? Sì Siete orribili Siete persone Merdoline Tutti Edgar Cioè Comunque io Cioè Io che mi lamento Dove essere un po' zì Ma che faccio? Ti distrugga questa difesa? No L'ho distrutta male Anche troppo Mmm No Va bene Va bene Va bene Maledetto Edgar Ho tutti straforti Edgar Vediamo No io ti aspetto Non ti rush Tranquillo Bro È stata tattica di prima Ma sì Oddio mi ha sciolto? Ma che è Sa baby shark Ma Ragazzi baby shark Davvero Oh Calmo bro Calmo sei fortissimo Sei forte Sei fortissimo Come fai? Ok mi ha Ho perso Mi ha distrutto Mi ha distrutto Non ci credo Ma raga qual'è la mutazione? Qual'è la mutazione? Beh di sicuro Spra Proietti più Non tanto Forte Aia Aia T'ho vista Ah ti ho preso Oh yeah Vuoi? Uh Con colpettini In faccia Pium pium Oh raga Com'è che sarà difficile Cold Posso? Posso di Oh Ah No Cavolo Non è mica l'usata L'usata L'atriz Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere No Ma che sei fortissimo Quanta vita c'hai Adesso lo distruggo Bassa Tanto è sicuro Qua stai Mori Boom Ok ho distrutto Praticamente tutta Non ci puoi più Nascondere Ah no No vabbè Tu mi hai rotto Tu mi hai rotto Sei un clown Sei un clown No 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 per pochissimo Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ma quanto Cavolo È stata Difficio Vabbè Non ci voglio credere Dai Cold Tu Puoi Ispirarci Fiducia Oddio Sbagliato Boom Ok mi sono distrutto Tutta la mia parte Però Cioè non so quanto Ne basta la pena Però vabbè Dai No 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 Ne vale la pena Sono un genio Ma come posso Competere contro lui Che è nascosto Io fuori Sono un genio Però questo è il primo Matchup dove Il nemico Pusha Anche ora ti pusho io bro Guarda 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 Che Puglino Che sei Aia Perché mi dai poco Mi dai poco Ma che vuol dire Ma che vuol dire Che mi dà poco Io non capisco Sì vabbè Però È rotto Vabbè Ok fra Hai vinto Hai vinto Fra Mi hai Faffanbagno Hai vinto Hai vinto Ok Hai vinto Ok Bravo Con quel personaggio Ma vaffanbrodo Che lancio io in faccia Quegli shuriken Poi il mio nome Sembra un botto Solo Ivan E basta Troppo basic Come nome No Ah Vai 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 Allora Dopo che ora Gli faccio così Eh no Oh era lì Era lì No Dove arriva Perché doveva andare zitto Tanto è sicuro Lì Ah no Eccolo Maledetto Mori Vai 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 Sium Allora Guarda guarda No È robottone Quello lì brutto No No Ecco E invece E invece E invece Devi stare muto Vai Lesgoski Eh sì Ecco Vichè si fa Vinci 5 battaglie Oh Mi è piaciuto Dai Bounce No Ma mi hai rubato la base Ma se mi fa Oh Oh come ho fatto a colpirlo Dai Ma vai Affanbrodo Dai Oh io non ci credo Io non Non ci credo No Per cento di vita Io non ci voglio credere Per cento di vita Ma dai Ma dai Brodi Ecco muori Oh devi morire Devi morire Muori Devi morire È rotto il cavo Vecchietto C'è quest'altro Aia Sto goblin Oh come fai a colpirmi Dai bro Adesso vieni qua Guarda guarda Sto goblin di Madonna Sto goblin Madonna di un goblin Oh ma ti deve venire Vai vai È morto È morto così Ok Vabbè Ed ecco il robottone vai Lo sapevo Muori Muori Oh No Per poco Per poco Per poco Per poco Eccolo Muori Muori No Oddio Non muore Non muore Raga Ma che è 26 di vita Ma è possibile Cioè è possibile Ma se è zitto Ma ragazzi Babbà Babbà Gli occhiamo Spacchetti Pium Vediamo Vediamo Grazie 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 Il tuo net Ok Ok 200 XP Che niente Oh 10 gemme pure Vediamo cosa possiamo prendere Un shop Bel mucchio 15 monete Vai Dai Mi hanno svoltato la giornata Se 15 monete Vabbè E niente È la vita Vabbè Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Commentate Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo A un prossimo Video Bella ragazzi Ciao Mettete l'antica